Riaprire tutti i ristoranti dal 26 aprile per quelle regioni che sono in fascia gialla, anche per gli ambiti al chiuso, anche per i tavolini collocati al chiuso e non soltanto per quei ristoranti che hanno Deor all'aperto, limitatamente ai tavoli che possono essere collocati nei Deor. Questa era il contenuto di una mozione che ho presentato, di una mozione urgente che ho presentato insieme ai colleghi di Forza Italia e ai colleghi della Lega oggi in Consiglio regionale. Questa mozione ha ottenuto il voto unanime, pressoché unanime, di tutto il Consiglio regionale, peraltro è stato aggiunto anche il concetto della riduzione del coprifuoco, quindi non più alle 22 ma alle 23 e anche un invito alla Giunta a individuare delle risorse da conferire ai ristoratori per attrezzare gli spazi all'esterno. La mia iniziativa nasce da una constatazione molto semplice. Le norme devono essere coerenti, i sacrifici che chiediamo alle attività produttive, in questo caso ai ristoratori, devono essere coerenti. Abbiamo apprezzato l'ultimo provvedimento del governo che dovrebbe partire dal 26 aprile, che inizia ad avere una serie di aperture, che prevede dal 15 maggio di aprire le piscine e le palestre, che prevede la riapertura dei teatri e dei cinema. Bene, positivo il fatto di prevedere la riapertura dei ristoranti anche la sera, ma è assurdo che sia consentita la riapertura dei ristoranti a pranzo e alla sera solamente a coloro che hanno uno spazio esterno e solamente nell'area all'esterno, perché questo sta penalizzando e tu e prevedere altresì che tutto il resto dei ristoranti, cioè coloro che hanno gli spazi solo al chiuso, possano riprendere dal primo di giugno. Primo, oggi in tante regioni, in tutte le regioni del nord, la temperatura non consente ancora né la sera né in molti casi a pranzo di pranzare, di mangiare all'esterno. Secondo, questa misura è contraddittoria rispetto a quello che abbiamo adottato nei mesi scorsi nelle fasce gialle e cioè nei mesi di gennaio, nel mesi di febbraio, nei mesi scorsi abbiamo previsto, il CTS ha previsto che quando c'era la fascia gialla vi era la possibilità di aprire a pranzo i ristoranti. Ecco allora la situazione epidemiologica definita alcune settimane fa dal CTS che appunto prevedeva nelle fasce gialle un livello così basso da consentire il pranzo all'interno dei ristoranti, oggi viene smentita dallo stesso CTS che prevede invece di tenerli chiusi fino al primo di giugno. Questo è inaccettabile, questo è uno schiaffo insopportabile a persone, a categorie produttive, a imprenditori che hanno fatto tanti sacrifici in questi mesi, peraltro con aperture, chiusure, delivery, asporto, situazioni molto difficili in cui molte volte maggiori sono stati i costi delle entrate, categorie che hanno retto coi denti in questi mesi e che adesso lo pretendono, prima di tutto coerenza e quindi se era consentito nelle settimane scorso aprire i ristoranti a pranzo deve essere ancora consentito e poi non prevedere soltanto di farlo all'esterno ma anche all'interno e immaginare di tenere la maggior parte dei ristoranti nella nostra regione, stiamo parlando dell'80% dei ristoranti che non ha degli spazi esterni, di rimanere chiusi fino al primo di giugno rischia di essere un colpo mortale. Il Consiglio regionale all'unamità ha mandato alla Giunta di agire con fermezza nei confronti del Governo, perché se è vero che si è fatto un passo positivo verso una nuova normalità, verso le riaperture, verso un ritorno a far ripartire l'economia bisogna avere la coerenza e il coraggio di andare fino in fondo. Chiediamo che tutti i ristoranti, anche coloro che hanno solo ambienti al chiuso e comunque per gli ambienti al chiuso, possano ripartire dal 26 di aprile quando le condizioni epidemiologiche delle regioni prevedono la fascia gialla e Regione Lombardia oggi ha un indice RT di 0,5, quindi è una regione da fascia gialla.